Nel castello di Castellabate, dove sono stati tenuti tra luglio e agosto 40 incontri letterari con la presentazione di nuovi libri proposti da 47 case editrici che partecipano alla rassegna libraria, sono stati esposti 2700 volumi con un pubblico che ogni sera frequenta gli eventi per un nuovo turismo culturale. L'organizzazione della rassegna libraria, unitamente al Comune, ha voluto creare un gemellaggio culturale tra i comuni di Castellabate e Rocca Gloriosa dal titolo Incontrando Tesori. Le due municipalità sono accomunate da riconoscimenti come siti UNESCO. Alla serata sono intervenuti per la comunità di Rocca Gloriosa il sindaco Giuseppe Balbi, l'assessore alla cultura Anna Nardi e due consiglieri comunali. Per Castellabate era presente il sindaco Luisa Maiuri e due consiglieri comunali a relazionare per Rocca Gloriosa l'architetto Carla Maurano che ha illustrato la magnificenza dei famosi ori oggi esposti nel museo comunale ed i ritrovamenti dell'area archeologica tracciando una visione completa di questa area geografica abitata dai lucani. Ad illustrare il territorio di Castellabate l'architetto Giuseppe Ianni che ha parlato di archeologia marina nelle acque di Castellabate spiegando poi tutti i ritrovamenti nelle acque di Punta Licosa oggi esposti nel museo del castello di Castellabate. Significativi gli interventi dei due sindaci che hanno illustrato le caratteristiche storiche ed archeologiche dei due territori nell'intento di fare rete comune per una conoscenza più ampia dei propri tesori archeologici. Dunque un territorio interessantissimo che presenta delle emergenze storico-culturali di primordine vanto del Parco del Cilento due comunità che presentano comuni radici legate al mondo antico greco romano lucano e al monachesimo esibendo il proprio patrimonio culturale naturale terrestre e marino frutto di millenni di incontri di popoli e civiltà. Si intende così anche incentivare le relazioni tra siti di importanza culturale e strategica, siti da inserire in nuovi circuiti di turismo culturale che recuperando antiche rotte sposta l'asse di interesse in senso est-ovest offrendo nuove possibilità alla conoscenza di godimento del bello, di fascino a un turismo attento ai veri tesori del sud.